Bene ragazzi e ben ritrovati al Noisy Podcast, oggi una puntata incredibile perché abbiamo qua una giovane promessa del drifting, Riccardo Tonali! Ciao a tutti ragazzi, un grande pubblico qui c'è, il pubblico da casa. Ma senti che roba? Vai, ancora voglio sentirlo. Ciao Ricky, come stai? Bene, voi? Ottimo, ottimo. Sono contento che mi avete invitato. Sei contento? Ma hai visto le altre puntate? Sì. Sei andato a ricordarle tutte? Tutte no. Avevamo un buco da rimpire, non sapeva anche invitare. No, immaginavo, immaginavo. Amici, qua con noi Riccardo, che è una giovane promessa del drifting, in realtà, è molto giovane, sei un nostro coetaneo, forse più piccolino. Io sono molto piccolo con fronte a voi, ho 21 anni, 2002. Ma tu hai iniziato questa incredibile disciplina dell'automotive, il drifting, che adesso spiegheremo che cos'è e come funziona, ancora prima. A nove anni, nove anni e mezzo, nove, nove anni e mezzo. E allora partiamo, da dove arriva la tua passione per il drifting? Allora, torniamo indietro. Esatto, iniziamo, iniziamo. Riavvolgi, riavvolgi tutto. Fino a nove anni è lunga. Allora, io, allora, partiamo che i miei genitori, mio papà e mamma, fortunatamente sono appassionati di motori. Loro sono sempre andati in moto, quindi come voi. Soprattutto Adriano, mi dà una vita. Che salutiamo, papà Adriano. Io, papà Adriano. Adriano, Viviano. Viviano. Viviano non si fa mai vedere, non gli piace. No, sta sempre dietro le quinte. Adriano è appassionato di moto, sfegatato, ha avuto R1, RD500, sempre belle moto. Mi ha provato a mettere sulla minimoto, niente. Non la funzionava. Piangevo, no, già lui disperato. Sì, 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 io minimoto, piangevo, niente. Quindi ha lasciato perdere subito. E allora battere. Piangevi, basta. Disperazione in casa. In casa disperazione, perché comunque due fanatici di motori, tuo figlio lo mette sulla minimoto, piange. Un casino, no? Sta di fatto che dopo qualche annetto c'era una fiera di paese, di go-kart. Paese dove? Perché tu sei di Lissone. Lissone, Montsebrianza. Paese mi butta, non so, ho chiesto di provare su un go-kart, quindi lui subito mi ha messo su un go-kart, c'era dei mini monster, si chiamano mini monster, il go-kart più piccoli del delfino, adesso ci si chiama una categoria del delfino, quindi ragazzini che vanno dai 4 ai 5 anni prima di iniziare con le gare ufficiali, questa categoria qua si chiama delfino, quindi questi mini monster qua mi ha messo su e finalmente andavo, mi piaceva. Cazzo? Sì, era contentissimo. Immagino la faccia di Adriano bello contento. Contento, contento, sì. E allora da lì è iniziata, quindi da fino, come ho detto prima, fino a 6 anni non si poteva fare gare, quindi niente. Se no avresti iniziato prima. Sì, sì, ma avrebbe già subito. A 6 anni ragazzi è prestissimo. Ma ti rendi conto? Se vedete le gare di 6 anni, vedete go-kart da 50-60cc con ragazzini che volano, perché comunque il kart va forte, peso nullo e quindi voli. Quindi c'era questa categoria qua, delfino, che tu potevi andare, vincevano tutti, tu giravi in pista con queste kart che andavano molto piano, vincevano tutti, quindi finita la gara ti davano tutti la medaglietta. A casa è pieno di medagliette. Medagliette le abbiamo prese, le medagliette le abbiamo. Quelle per fortuna le abbiamo. Poi finalmente è giunta l'ora dei 6 anni, abbiamo cominciato col kart e col 50. Facevo un campionato che si chiama Parolin, un campionato veneto che ora Parolin fa il miglior telai di tutti. Ah, ok. Ora va molto forte come telai. Io ho iniziato col 50, ho fatto seconda all'italiano, terzo europeo, quinto al mondiale. In questo arco qua siamo arrivati a 7-8 anni, passato di categoria a 60, prove di stagione, prima gara, subito incidente, ho spaccato l'Omero. Ah, così? Sì, subito. Ah, 8 anni? 8 anni, 8 anni e mezzo. Furia? Sì, sì. Quindi, trauma totale anche per in famiglia. No, quindi dopo, quando ti fai un certo tipo di danno fisico, ti tolgono la licenza. Cioè, te la tolgono perché devi fare delle visi, devi recuperare. Ma l'incidente è causato da te? No. Cioè, abbiamo un errore tuo? No, 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 no. Praticamente eravamo in bagarre, eravamo in quattro, fate conto, a rombo. Quindi c'era un kart davanti, due dietro e io in fondo. Quindi eravamo a rombo. Il ragazzo davanti si gira per un problema tecnico, perché eravamo su un rettilineo, quindi avrà grippato, non so cosa sarà successo. Si è girato in fronte a me. Loro due sono aperti, perché hanno fatto in tempo. Io ero dietro, mi ha fatto da rampa, da lancio e mi sono cappottato. Proprio così, ho fatto mezzo giro. Ah, si è terrato di testa. Sì, sì, di testa. C'è da dire che il danno che hai fatto è anche, poteva essere molto più grave. Molto, molto grave, perché allora erano appena usciti i primi collari, primi dopo la spugna, quindi erano rigidi. Alcuni potevano dire, potevano, dicevano che senza quello rompevi il collo, ma non rompevi la spalla. Sì, sì, come anche il cross, un po'. Mille storie, però io ho rotto l'omero e vivo su un bimbo. Meglio quello. Funziona. E sono stato fermo parecchio tempo, quindi mio papà, noi abituati da sempre a essere fuori ogni weekend, quindi stare a casa chiusi in casa, io poi non andavo a oratorio così, calcio, robe così, non era per te. Quindi ci troviamo da essere fuori sempre a niente. E mio papà, con un suo amico che saluto, Massimo, che è Keen, che corre con me, quel ragazzo con la cresta, tutto tatuato. Ah, tutto pazzo. Sì, tutto pazzo, numero uno. Comprano le prime macchine da drifting, BMW. Mio papà compra un M3, lui compra un 320, poi successivamente compra una Skyline che ha tuttora. Andiamo nei piazzali a Castelletto. C'era Federico, c'era e c'è tutt'oggi, Federico Sceriffo, diciamo che lui e altri hanno stato i primi a portare il drifting in Italia, quindi dal Giappone, perché dopo ci arriviamo, il drifting arriva dal Giappone, l'ha portato qui, quindi c'era questo ragazzo che faceva corsi, no? Nel piazzale a Castelletto. Quindi provano, perché io ero ingessato, così provano, vanno e cominciano a girare, quindi il weekend, vanno lì, sì. Che poi Federico è uno dei massimi esponenti del drifting. Ora lui fa la formula drift in America, un campionato spettacolare dopo il Drift Master, con una Ferrari. Lui fa drifting con una Ferrari. Cosa è un F12? No, è una, cavoli, come si chiama? Lui la chiama Fiorella, quella col motore davanti. F12, Berliner, insomma. F12, sovralimentato turbo, prima ce l'aveva aspirato con il NOS, adesso l'ha fatto turbo con una turbina in mezzo. Lui l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Una follia. Immagini il marketing di Ferrari sconvolto. Allora, su queste cose qua, perché so che i Ferrari ogni cosa che si vede, ti pannano tutti. Non lo so, non lo so. Penso che è autonomo, fa quello che vuole. Però sai che il marchio Ferrari... Ti toglie magari la possibilità di comprare la prossima. La macchina comunque sta tagliata e allargata. Sì, sì, lì hanno fatto dei lavori incredibili. Quindi non è più originale. Però lì si parla di potenze, poi vabbè, arriveremo a quello che fai tu adesso. Farà mille passagalli. Anche di più, anche gli altri della Formula Drift hanno cavalli a non finire. Lì, 750 cavalli, 700 cavalli, l'F12. Sì, sì, ma ne hanno anche più del doppio. A voglia, no. Sovralimentato. Il motore comunque penso sia forgiato da testa a piede, quindi tranquillamente. Fai mille cavalli con gli RB2GZ, i motori BMW, pensa se non lo fai con quello. L'F12. Vabbè, torniamo però. Poi arriviamo magari alle specifiche. Ero lì ingessato, comunque la voglia, cazzo sei lì, scusate, la voglia che vedi, no? Io ero lì, guardavo e dicevo a tutti quanti, non siete capaci, no? Non siete capaci, non siete capaci. E loro, sì, sarai bravo te, no? Sarai bravo te. Arriva il giorno che finalmente, dopo quasi una, la stagione era finita del kart. tolgo finalmente sto tutore, gesso e tutto, no? Allora io sempre, non siete capaci, non siete capaci, faccio una testa con un pallone, sono pesante quando mi punto. Perché in tutto questo loro continuavano ad andare, sì, sì, giravamo, perché non sapevamo cosa fare. Allora a un certo punto, sfinimento totale, dai, vai su. Cioè, proprio li ho tirati fuori di testa. Non arrivano neanche ai pedali? No, 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 mi hanno messo i cuscini dietro, senza dirmi ovviamente, maledetti, come si faceva a lasciare la frizione, non sapevo niente, no? No, 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 quant'anni avevi lì? Otto anni, nove anni, otto anni e mezzo, sì, sì. Allora, avevo guidato una macchina, però, con mio papà. Però a due anni, tanto tempo prima, quindi non si ricorda. Due, tre anni fa, quindi capisci che un bambino, lo fai guidare un attimo, ma dopo ce n'è. Allora, con l'esperienza dei kart, sapevi quello che dovevi fare, perlomeno. Però hai tre pedali al posto di due, cioè devi lasciare la frizione, accelerare piano piano, puoi rischiacciare, niente. Allora qua ci siamo tutti, più o meno. Ad oggi, però. Voglio vedere te a otto anni, voglio vedere te a otto anni cosa facevi. Ma a otto anni, business, immobiliare, case. Facevi tipo guru, a Dubai. Ma io ho già comprati bitcoin nel 98. Quando ancora non esisteva. Vedi, al posto di avere un anno, devi putarti avanti. Eh no, hai ragione, hai ragione. Sei lì a ciucciare il latte. Ecco. Tu ciucci il latte. Vabbè, detto questo. Sta di fatto che mi buttano su, per dire, vai su così tanto non sei capace, la fai spegnere una volta, due, ti tiriamo giù. La loro sfortuna che metto la prima e vado. Avete già capito come fare. Senza far spegnere la macchina. Mai fatta spegnere la macchina. Quindi poi da lì metto la seconda, mi metto al birillo perché i primi esercizi che si fanno quando facciamo i corsi che hai fatto anche te, sono il cerchio, poi passi al lotto, poi passi al parcheggio, quindi sono quelli. Mi metto di fianco al birillo e comincio a fare il cerchio. Questo senza che nessuno mi dicesse come fare. Io guardavo e prendevo spunto, no? Allora dai, non ci credo. Allora poi mi fermo e mi dicono, ma Riccardo, cioè, c'era anche lì Federico? Ma mi state prendendo in giro? Guarda mio papà, no, capisci? Un bambino sale, va e fa il tondo. Ma col freno a mano? No, 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 solo di acceleratore. Ah, ok. No, non avevo la forza fisica per tirare freno a mano. E Federico dice, ma mi state prendendo in giro, no? Cioè, ma no, 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 come fai, no? E gli faccio, guarda, con la Playstation, no? Io giocavo con la Playstation, avevo il volantino e poi da lì, niente, mio papà mi compra una Mazda MX5008 che ho tutt'oggi, quella che uso per i corsi. Bellissima per i corsi, Sì, è fantastica. E da lì, tra virgolette, continuo, cioè, me l'ha presa per andare qualche volta, ho ripreso col kart, ma non andavo più come prima. Si dice che i bambini non hanno paura finché non ti fai del male. Anche se poi pensi di non averla, quando staccavi a un metro alla curva, staccavo metri, metri prima. Quindi da essere, tra virgolette, sempre sul podio, quinto, sesto, decimo. Non avevi più quella malizia. Sì, poi le gare cominciavano a costare parecchio. Eh, infatti, volevo chiedere quello. Il karting è molto costoso. Si arrivava quasi a 5.000 euro a gara. Cosa? Sì, sì, se non spaccavi niente. Perché dovevi prendere il motore a noleggio, perché erano tutti flangiati, le gomme da bagnato, asciutto, anche se era agosto. Tu devi comprare sempre due gomme. E quante gare c'erano in questi campionati? Adesso non mi ricordo. Comunque sei otto, dieci gare. Quindi dieci gare? Eh, no, 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 a follia. Sono 50.000 euro. C'è gente che purtroppo per il figlio ha perso tutto. Perché per il tuo figlio faresti di tutto, no? Eh, certo. Spendi, 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 certo. Ti trovi con niente. Sta di fatto che c'era la mazza che andavo a girare, poi andavo a girare col kart e capisci che di qua e di là non è che si poteva fare tutto. I risultati non c'erano più, quindi mi dicono cosa vuoi fare? Vuoi continuare con il kart o vuoi spostarti con la macchina? Visto che poi quando non è più non è più bello che non arrivi cioè non ottieni risultati ti demoralizzi anche te poi sono successe varie cose nel campionato il team è soddisfatto per un ragazzo che è mancato un susseguire di cose l'autista che ci portava il camion è mancato il giorno del mio compleanno che eravamo legati un casino quindi un susseguire di cose ho lasciato il kart i miei risultati li ho ottenuti ci siamo divertiti lo rifarei cento altremila volte però ho detto mio paio mi fa o questo o quello scegli ma il mood in casa com'è che era? no 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 tranquillo allora sono fortunato io mi ritengo fortunatissimo perché i miei genitori mi hanno sempre detto scegli te quello che vuoi fare bello cioè scegli te cosa vuoi fare ovviamente che se sarei andato avanti arrivava un punto che certo qualcosa finiva perché il karting ti porta a se metti perché ormai le aziende non sponsorizzano più come una volta tra virgolette una volta ti sponsorizzavano se vedevano risultati ti portavano in formula 3 arrivare fino alla formula 1 non è più così perché c'era forse una copertura anche mediatica? non c'è mai stato se guardi il karting lo seguono chi è appassionato del settore quindi abbiamo deciso di spostarci su ambito automotive mi piaceva di più nuova adrenalina nuova esperienze nuove nuove persone nuovo ambiente bello che poi sei stato sempre supportato anche da papà e da mamma quello sempre sempre tutti e due ma questo supporto oltre alla passione nasceva da perché loro facevano già qualcosa col campo dei motori allora i miei genitori come dicevo mi hanno sempre detto fai quello che vuoi quindi penso che se avessi giocato a calcio mi avrebbero supportato nel calcio se avessi fatto danza uguale tu ovviamente hai scelto quello più costoso quello più costoso un pantaloncino una maglietta delle scarpe andavano invece più costoso ma invece loro proprio cioè la loro passione nasceva dal fatto che lavoravano già nel settore dei motori allora cosa che faceva papà mio papà allora mio papà ha sempre fatto l'idraulico e il meccanico da ragazzino quindi quando la passione è nata anche dal lavoro da giovane poi mio papà ha un fratello più grande quindi moto quindi è sempre stato in quell'ambiente mia mamma invece aveva una pasticceria con i miei nonni quindi tutta altra cosa però poi ha conosciuto mio papà siamo arrivati a scegliere ho scelto il drifting siamo andati abbiamo cominciato a fare corsi con Federico mi ha insegnato piazzale ho fatto anni nel piazzale prima di andare in pista quindi piazzale piazzale allenamento 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 ma questo è quanti anni fa scusami adesso ho 21 anni avevo 9 anni scusami ma da quanti anni fa hanno drift a Castelletto io pensavo fosse recente la cosa no da una vita da una vita quel piazzale lì fai conto che adesso tu proprietario di autodromo ti fideresti a accettare un bambino di 9 anni con una macchina che fa drifting assolutamente no no ok Adriano che è il proprietario del piazzale del circuito di Castelletto del motodromo mi ha mi ha aiutato in questo perché nessuno accettava questo fatto cioè finché vai col kart in moto che c'è la licenza ok ma nel drifting non c'è licenza non c'è niente ero l'unico e mi ha dato questa opportunità un po' merito suo sì perché se no magari sarebbe andato dove mi allenavo dove andavo cioè da nessuna parte anche perché lì poi c'è l'acqua comunque c'è l'acqua sì poi anche dopo quando sono andato in pista avevo dopo un anno dieci anni un bambino di dieci anni in macchina che fa drifting non ha piso no non accetta nessuno anche perché poi mi mangia una scena di lui con la testa gigante troppo piccolino piccolissimo piccolissimo tipo stewee sì sì piccolissimo quindi grazie anche a lui che ci ha dato questa opportunità senza nessun tipo di problema sei sempre fidato e niente poi da lì abbiamo Federico mi ha fatto andare a Cipro e in Giappone dove è nata questa disciplina qua fare un corso quindi ti ha spedito lui siamo andati tutti ho visto siamo partiti avevo dieci anni quindi un annetto dopo dieci anni neanche ora compiuti perché sono di fine anno sono di settembre quindi diciamo dieci anni sono andato in Giappone dove è nata questa disciplina qua a fare un corso così si chiama la montagna famosa Ebisu Ebisu poi ci sono altre montagne però la pista specifica dove vedi quelli che le fanno i salti si chiama Ebisu sono andato lì mi ha andato una Skyline R33 Berlina quindi cinque porte non coupé sì che poi lì fanno i noleggi no? sì sì se tu vai lì noleggi la macchina in queste piste storiche del drifting noleggi ma la pista perché non sono esperto è proprio una pista o una strada praticamente è un complesso enorme dove ci sono diverse piste non ti dico il numero ma ci sono diverse piste c'è Ebisu poi c'è un pezzo di montagna dove hanno girato il film di Fast and Furious quella che sembra gigante ma poi è un otto c'è un'altra pista adesso non mi ricordo i nomi ci sono varie piste dove fanno drifting sono chilometri e chilometri sì no no è enorme è una montagna intera che scende è bellissimo no è bellissimo poi in quegli anni lì nei primi anni il campionato più bello maggiore era il D1 GP adesso c'è la formula drift adesso c'è il drift master che sono spostati anche come stili macchine cose si è spostato tutto però c'era il D1 GP e dopo questa esperienza del Giappone? dopo questa esperienza del Giappone la svolta vogliono sapere la svolta sono tornato mio papà mi ha dato l'M3 che ha comprato e non potevo fare ancora gare quindi stesso ragionamento del kart non potevo fare ancora gare quindi siamo messi a fare eventi dopo questa cosa qua che comunque i video giravano girano cominciavano a chiamarti i primi eventi vogliamo il bambino che fa perché sei stato il primo anche giovane drifter in Europa però c'era il più giovane c'era sempre un problema che tu per fare gli spettacoli in giro come fanno gli statmen devi avere assicurazioni cose nessuna assicurazione ti vuole assicurare quindi mi sono appoggiato a dei circensi circo che facevano spettacoli in giro quindi due ruote statmen tutto mi hanno messo come non mi ricordo dovrei chiedere a mio papà queste cose non me le ricordo mi hanno messo dentro con loro quindi io giravo con Didi Bizzarro famiglia di Roma sempre fatto statmen quindi due ruote due ruote con i camion moto incidenti con le macchine in focale quelle cose che vedi adesso loro le facevano già vent'anni fa trent'anni fa loro sempre controfigure di film tutti i film che vedi ti è mai capitato ho fatto un film io no lo giuro con Fabrizio Corona è già qui film con Fabrizio Corona si chiama Italian Business facevo Corona da piccolo praticamente Corona correva con il car con la macchina hai fatto da controfigura no 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 ma mi vedo io nel film ci sono proprio io con la macchina non ci credo voglio andare a riprendere immediatamente te lo giuro dopo te lo faccio vedere ce l'ho registrato mini Fabrizio si si mini Fabrizio faccio un pezzettino poi scendo controfigure controfigure nei video musicali si è un sacco anche recentemente recentemente anche si ti puoi dire si Fred De Palma Fred De Palma Vegas Jones Taxi Gali poi anche ma come sei entrato in questo circolo così scusami mio papà non lo so non lo so mio papà mi ha fatto più però aspetta passo indietro esatto della storia comincio a fare spettacoli in tutta Italia tutta fino adesso arriviamo cominciamo a fare spettacoli in giro quindi ho fatto Pisa sono andato in Spagna in Francia ho fatto il motor show l'ultimo motor show di Bologna l'abbiamo fatto poi tutti gli eventi più belli che ci sono stati perché dopo il covid si è diminuito tutto sono riuscito a farli tutti 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 e poi quando è che esplosa questa cosa tra le tue mani allora esplosa nel senso che arrivati a 14 anni all'estero in alcune piste puoi fare se quello che organizza il campionato te lo consente puoi fare qualche gara quindi andiamo in Francia a Neuduring avevo neanche 14 anni c'è stato un magheggio magheggio perché si lo facciamo correre tanto cosa vuoi cosa vuoi che succeda no? corre magari si si qualifica poi finisce lì prima gara così 13 anni 13 anni e mezzo secondo subito nella categoria pro 2 delirio delirio poi da lì hanno parlato di te bene per fortuna sempre bene e quindi da lì mi ha aperto un po' il via in alcune piste quindi comincio a fare ho fatto Slovacchia ho fatto Francia ho fatto Spagna così sempre andate bene che sia sul podio che non quindi però non ultimo ottavo sesto premetto che ho sempre corso con l'M3 quindi macchia a 300 cavalli e contro magari vetture tipo un'M3 92 tutta alleggerita c'è 400 450 cavalli è tanta differenza ma dopo aver fatto questi risultati ti sei gasato hai un po' perso le staff no sempre piedi per terra perché sennò i miei genitori botte giusto sempre piedi per terra sempre piedi per terra non mi sono mai creduto noi in realtà ti conosciamo questa risposta la sapevo già perché sei un molto umile ma poi ci arriviamo sempre stato con i piedi per terra non mi sono mai creduto nessuno no 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 mai neanche a scuola mai in giro da nessuna parte mai esagerato con le parole perché per fortuna ho avuto un'educazione e sempre stato con persone più grandi quindi anche negli eventi vuoi o non vuoi essere con persone più grandi quindi se vuoi essere accettato devi comportare bene non da bambino la persona è grande se no non viene accettato anche il circo era comunque già sul palco circo così circensi in generale sei comunque davanti al pubblico ti riesci a comportare quindi sempre ho dovuto parlare con le persone al pubblico microfono quindi sempre sempre con i piedi per terra mai esagerato con le parole perché comunque se vuoi essere accettato devi saperti comportare da adulto scusami ma dopo l'esperienza in Francia? dopo l'esperienza in Francia ci ha aperto tante porte e chiuso tanti portoni perché lì è la famosa esplosione della bomba sì perché poi cominciano ad arrivare persone che dicono no bambino pericoloso per depistare certo soliti moralismi no perché perdevano l'italiano medio è tra virgolette stupido perché invece di collaborare alleare le forze no lui ti deve mettere in secondo piano cioè ci deve essere solo lui ma c'erano tanti italiani in questo campionato sì no ma in generale quindi invece ho cominciato a fare gli eventi no che ti dicevo invece di unire le forze loro piuttosto dicevano guarda se non inviti tonali ti diamo qualcosa a noi o veniamo a gratis dicono uniamo stiamo assieme che portiamo più gente sì sì oh a voglia meno male che abbiamo trovato persone intelligenti nel senso cosa vuol dire perché non deve venire tonali te vieni a gratis non ha questo senso qua sono ancora vivi quelli che l'hanno detto non fanno più niente non ha più senso l'Italia ma per tanto tempo ma tutt'oggi così perché tu lo metti in secondo piano perché ovviamente ragazzo di 30-40 anni che fa drifting ok e arriva il ragazzino è normale che puntano gli occhi sul ragazzino è certo però stupido puoi accumulare la potenza mediale di un ragazzino di un esperto quello che ha capito il ragazzo del circense Didi cazzo ok alliamoci che viene più gente quindi ok c'erano 100 persone allo spettacolo c'era novità ne vengono 200-300 esempio ma lo senti ancora? si sempre e sta di fatto che adesso noi parliamo veloce ma passano cioè anni certo ma già in questo piccolo 13-14 in questi anni eri già diventato qualcuno ovviamente tu suppongo eri a scuola facevi le tue cose ma era già una sorta di lavoro allora cioè gli eventi erano già eventi tra virgolette pagati tu andavi per fare degli eventi allora mio papà non ha mai voluto usarmi cioè passiamo questo termine qua noi venivamo pagati ma non che guadagnavo io perché se no c'era anche una cosa che non potresti sarebbe un minorenne minorile noi venivamo rimborsati del viaggio hotel mangiare gomme benzina quindi tra virgolette a quel momento che era una passione comunque venivi ripagato facevi quello che ti piace a gratis tra virgolette non ho mai guadagnato fin quando ero minorenne dicevo noi lo diciamo spesso lo diciamo velocemente ma passano anni quindi 13 14 siamo arrivati a 15 anni che il campionato europeo si unisce con quello italiano si erano già uniti ma poi si erano staccati cose loro si unisce quindi noi con la CXI che è la tessera che ti usa perché usi per correre puntavamo sempre ma agevoliamola questa tessera qua perché per correre con la macchina devi avere 18 anni con la patente confronto a tipo formula 2 mini GP quelle robe lì che potevi avere 16 anni con la licenza siamo riusciti sono stato il primo ragazzino a avere questa licenza 16 anni per correre nel campionato italiano che è il campionato europeo tutto in regola sta di fatto che 16 anni faccio il primo campionato faccio il campionato a Castelletto vinco faccio prima gara primo primo poi sul seguire del campionato abbiamo avuto problemi con la macchina così però abbiamo portato sempre a casa i nostri risultati tranquilli sempre con l'M3 non ho mai cambiato macchina sta di fatto che poi esce sta di fatto che finisce il campionato decidiamo di preparare la macchina nuova che ho tuttora la Nissan che avevamo già da preparatore ma esce il covid più o meno subito dopo esce il covid quindi è uscito l'ultimo modello di covid mi ha bloccato perché finito il covid avevo 18 anni quindi quella licenza lì per i ragazzini che volevano ormai era saltata in quel periodo lì quindi quelli della tua età non serviva più niente quella licenza l'unica cosa che mi è dispiaciuto è stato non vincere o piazzarmi bene al campionato italiano europeo che sia da minorenne perché purtroppo è stato fregato quindi questa soddisfazione non l'abbiamo avuta tolto sassolino dalle scarpe sì ma non ho mai avuto questa soddisfazione chiaro ma con il covid hanno fatto quanti anni di pausa due due no 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 siamo stati fermi poi è ripartito piano piano senza pubblico con le mascherine così ma ormai ormai ero arrivato alla maggiore età tra che prepari la macchina tra che puoi uscire non puoi uscire andare fuori all'estero alcuni dicevano che potevi ma c'era la quarantena cioè ti fidi con questa cosa che è successa non ci fidavamo quindi siamo rimasti nel nostro abbiamo preparato la macchina prepariamo la macchina finito il covid portiamo in pista per le prime gare si è rotta subito no la Silvia sì subito si è rotta per un tubo difettato perché la macchina è una Nissan Silvia S13 V8 motore americano turbo ovviamente il turbo ha un ingresso e un'uscita si era rotto il tubo di uscita quindi l'olio entrava ma poi si è svuotato decidiamo di di fermarci fermarci proprio di non fare niente bagno di sangue sì 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 cominciamo a preparare il motore pezzi in ritardo sempre con le spedizioni covid non covid dico ascolta niente mi rimetto in gioco con l'M3 perché non è che puoi niente facciamo il campionato 2021 con l'M3 mi piazzo secondo al campionato italiano subito con l'M3 che è il CID il campionato italiano CID il campionato italiano drifting mi piazzo secondo perché la prima gara ho rotto un motore non ho mai rotto macchine in dieci anni negli ultimi nelle prime gare però poi purtroppo erano sempre quattro gare per questioni covid spostarsi non puoi spostarsi siamo piazzati i secondi va benissimo purtroppo non sono riuscito da minorenne questo mi dispiace nel mentre i pezzi della macchina arrivavano cominciamo a montare la macchina cominciamo a assemblarla quindi 2020 2022 2022 si ci mettiamo in gioco con la macchina fresca quindi senza aspettative quindi per andare a testare la macchina ok quindi cominciamo a fare sempre il campionato italiano nella pro le prime gare sono andate benino così perché la macchina ha da mettere a posto di setup motore cose piano piano però le ultime gare ci siamo piazzati secondi terzi così e per per sfiga l'ultima gara sono riuscito ad arrivare terzo al campionato subito dopo perché tra le gare perse prima non mi ero piazzato bene l'ultima gara quindi ho fatto quarto ma tipo dieci punti dal terzo ci vuoi spiegare come funziona la questione dei punteggi delle gare non c'è tempo come time attack o formula 1 non c'è tempo è molto complicato perché ti dico si possono iscrivere qualsiasi macchina possono anche esserci 100 auto 100 auto tu praticamente prendi una pista prendi 2-3 curve 4 curve massimo poi dipende come sono le grandezze può essere anche 6 però sei una vicino all'altra ci sono delle clipping zone birilli possiamo chiamarli come vogliamo disegnate all'interno o all'esterno della pista quindi esterno di passarla col culo e all'interno col muso quindi tu fai un briefing prima ti dicono come vogliono vedere la linea e non sono mai uguali ogni anno cambiano i clipping zone se la pista è la stessa se la pista è la stessa quindi tipo cono sul cordo all'interno praticamente sono dei rettangoli disegnati di bianco dove devi passare non è detto non è detto alcune volte puoi pennellarla più larga alcune volte si chiamano touch and go non li vedi devi solo passarlo tipo un cambio di direzione tu devi fare un cambio di direzione così si chiama touch and go lo prendi è tipo invisibile ma sai che lì devi prenderlo e spostarti chiaramente il tutto derapando sempre perché drifting vuol dire sbandata controllata quindi se tu smetti è zero devi essere sempre sempre di traverso è zero zero se tu addrizzi per sbaglio una volta zero anche perché tra l'altro parentesi siete filmati durante la gara si si c'è allora c'è la la giuria c'è un ti riprende come si chiama si la giuria noi mettiamo una telemetria sulla macchina una telemetria che ti dice ovviamente la velocità e determinate cose più la giuria sono tre giudici ci sono quindi queste clip in zone qua che tu fai il briefing ti dicono come vogliono vedere la linea come vogliono che fai l'attacco certe cose per prendere più punteggio perché tu devi piacere al giudice quindi tu da lì poi magari tu fai la stessa pista per due anni differenti ci sono tre giudici diversi magari quello là lo vuole che entri di fra una mano e quell'altro gli piace più che entri di frizione è tutto soggettivo quindi è tutto soggettivo sì diciamo di sì perché poi c'è loro calcolano la velocità di ingresso quindi tu fai l'attacco a 100 all'ora 200 all'ora 130 all'ora più entri veloce più il punteggio alto però attenzione ok che tu entri a 200 all'ora però dopo non è che mi vai a 50 devi mantenere la velocità ovviamente non puoi tenere 200 all'ora quindi vai 200 poi scende a 150 hai fatto 200 non ho derappato a 200 a Neuduring quella lì entro 187 187 e il famoso attacco è quando inizia inizia a derappare quindi può essere un attacco di leva quindi frena a mano quindi per forza devi arrivare a frizione leva certo e quindi ti ingressi o se no può essere uno spostamento di peso quindi un ingresso veloce quindi fai destra a sinistra non che vai a sinistra a destra destra a sinistra si spilancia e entri di acceleratore o frizione quindi sei lì sei parecchi cavalli entri sfrizioni e entri di traverso quindi la velocità aumenta capisci che tu entri ci sono un sacco di variabili poi da 180 all'ora scendi magari 150 130 80 perché poi dopo c'è una curva dietro l'altra ti rallenti e quindi quello è già un punteggio la linea ti contano quindi quanto sei bello pulito a fare il cambio di direzione bello lo show quindi quanto fumo fai come entri l'angolo di sterzo che è molto importante è quello che tra velocità tra tutto velocità e angolo di sterzo è quelli che danno più punti chiaramente più sei angolato più sei angolato più prendi punto più fai fumo più è tutto un occhio perché l'angolo ti porta via velocità quindi devi avere sapere dove mettere l'angolo certo perché se tu mi metti l'angolo in ingresso che è una curva veloce rallenti tutto non ha senso perché poi dopo non arrivi dall'altra parte se invece magari sono le ultime curve quindi arrivi bello che arrivi veloce la rallenti quasi all'indietro che si chiama back lì fai tanta roba poi è anche un bello show una bella linea quindi mettono insieme tutto questo punteggio che c'è la telemetria più i giudici è un punteggio da 0 a 100 quindi può essere un 75 un 80 un 75,9 un 75,5 e ogni giudice dice il suo e fanno la media sì sì perché uno giudica la linea uno giudica lo show ognuno fa il suo poi si mettono insieme e fanno un punteggio ci sono anche che so i testa a testa perché poi adesso questa era la qualifica la cosa più importante fanno 100 macchine solo 32 si entrano nella gara drifting battle sì quindi se sei il 33esimo vai a casa no sì sì tipo tu vedi il venerdì che c'è il paddock pieno già il sabato si dimezza magari ci sono e poi arriviamo anche alla fase dei costi che poi sono curiosissimi dolente adesso poi passiamo anche a quello arriviamo quindi alla battle quindi poi il primo si sfida con l'ultimo quindi tu puoi essere bravissimo essere arrivato ultimo per un problema quindi il primo si sfida con l'ultimo quindi anche l'ultimo può arrivare primo senza nessun problema non è come una gara di velocità che siete in 40 in griglia qualifichi davanti se sei dietro sono eliminazioni dirette quindi primo con l'ultimo cioè col 32esimo primo col 32esimo vai a tap 32 16 8 ok figo la battaglia quindi partono due macchine uno davanti uno dietro di solito è chi è più sopra di punteggio parte davanti e quello è parte dietro quindi tu dietro devi seguire quello che fa davanti attenzione quindi il primo il primo parte deve fare la sua la sua linea di qualifica cioè non è che tu ti puoi inventare un'altra traiettoria perché sennò per certo tu dietro devi seguire quello che fa lui quindi tu parti attacco devi stare vicino devi seguire quello che fa lui ovviamente se lui va fuori cioè se tu sai che la linea è quella se lui sta facendo un'altra linea che è sbagliata sta a te capire che sta facendo una cosa sbagliata e quindi tu lo devi seguire lì va un punteggio da 0 a 10 che sta 5-5 è 10 quindi può essere che la prima manche facciamo 5-5 la seconda facciamo 5-5 è 10 10-10 si rifà one more time quindi ancora e può essere un punteggio 9-1 10-0 perché magari quello davanti si è girato o si è riaddrizzato o ha messo addirittura due gomme fuori se tu esci dalla pista con due gomme che siano quelle davanti o quelle dietro è 0 e se ne metti fuori una è una diminuzione di punteggio però non è 0 quindi può essere 9-1 8-2 7-3 adesso praticamente dipende come lo tocchi se tu arrivi da cane che li vai addosso così se tu arrivi bello e dai il bacino o comunque gli dai una bottarella comunque le mani gli dai una bella botta cioè arrivi forte e dai una botta da cane si vede però se arrivi lì lo tocchi lo spingi capisci che vuol dire che stai andando molto bene e quello è un punteggio per te dietro perché vuol dire che l'altro sta andando piano vuol dire che tu sei più bravo di lui cioè concettualmente chi parte davanti deve arrivare distanziato facendo una linea giusta deve scappare deve scappare tra virgolette però se tu stai bello dietro bello vicino perché il 99 delle volte chi sta davanti o prende il punteggio pari o prende quello il punteggio prende di più quello che sta davanti di solito però se tu prendi già un bel punteggio quando sei dietro hai già vinto tra virgolette hai già vinto se non fai cavolate o non ti inventi cose strane perché dopo ti sposti dopo ti inverti quindi davanti di solito prendi sempre punteggio maggiore e quindi l'hai già inchiappato quello che mi sconvolge è come fate a capire in mezzo tutto quel fumo allora io che l'ho vista da fuori che siamo andati a Parma eravamo sì che lì non era niente vabbè però era un parcheggio comunque allestito fatto bene grande parcheggione della fiera di Parma allora se c'è tanto allora tu stai vicino dietro non lo vedi il fumo perché tu sai quanto lui le ruote sono dietro quindi il fumo va dietro se tu sei lontano o vai a memoria e vedi però c'è sempre quel momento di buio perché tu devi cambiare quindi a un certo punto devi distaccare da lui e quando smusate entrambi smusate il cambio di direzione entrambi è lì che il fumo lo prendi per forza quindi lì devi distanziare un attimo o lo anticipi quindi sono anche sono anche tra virgolette trucchi quindi lo anticipi quindi tu ti sposti prima quindi nel mente tu sei già qua lui si sta spostando eviti il fumo però devi entrare per forza un frangente che poi se no se ti vedono che raddrizi poi sì no no certo ma un frangente di fumo c'è là per forza o che piove o che non fa tanto fumo alla macchina anche con la pioggia lo fate di notte allora a me non piace no sì con le luci sì vabbè però non buio io a me la pioggia piace non piace però sulla pioggia vado fortissimo anche perché poi ti ne è ancora meno ancora meno sì però io se tipo c'è stata una gara battipaglia io con l'asciutto entravo a 100 col bagnato entravo a 100 uguale identico uguale identica anche la macchina certo cioè adesso prima abbiamo detto che il kart costava tanto il drifting prima il drifting costava veramente poco quindi compravi un M3 36 che adesso costa una follia ai tempi te le tiravano dietro perché non le valeva nessuno poi è uscito il superbollo cose prendevi delle gomme dal tuo gommista di fiducia così le mettevi usate la macchina si c'aveva 300 cavalli ma non è che consumavi adesso le macchine hanno 800 1000 cavalli fai due giri io con la Nissan faccio due giri ho finito le gomme quanti cavalli ha la Nissan 700 a 0,8 bar di pressione 700 vuoto vuoto 800 newton metri va va non si è mai no non mi è mai portato no no è pesante tu sei serito no io sul BMW è bello è divertente però lui è salito è vero a Varano Varano 140 all'ingresso hai attaccato c'era il capo l'abbiamo fatto insieme no io non sono salito in pista 130 perché calcolando il rapporto quando vai in pista andiamo non c'entra niente col piazzale il piazzale va a 30 all'ora immagino e già mi sembra di volare è bello è bello andiamo adesso ma scusami se tornassi indietro rifaresti questo cambio dalla BMW alla Silvia? ah allora ti dico oggi come oggi tutte le macchine sono prestanti con l'attrezzatura che c'è quindi la macchina non è più originale vai a tagliare vai a spostare però era una cosa che le BMW in Italia hanno sempre girato e hanno stancato stancato nel senso e c'erano quelle c'erano sempre BMW 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 quasi scontato che vince perché c'è la BMW sì basta quindi dimostriamo con la Nissan sì adesso torniamo indietro ci sono mille cose da raccontare io quando facevo gli eventi sì ero bravo perché c'evole M3 che si guidava da sola quindi quindi ce l'ha visto Sassolino sì quindi tramite un'azienda e uno sponsor abbiamo acquistato una Mustang che è la Mustang originale è la macchina peggiore per fare drifting perché tu vedi quei video americani un saluto amico firmo che ci seguo da casa l'unica volta che abbiamo provato a driftare su un tornante che ci stavamo usando adesso le ultime sono aggiornate ma quando dicono cancelli con le ruote è vero beh io ho visto certi video del Mustang però non quelli recenti quelli un po' vecchiotti comunque non è che sono scemi quelli che guidano la macchina cioè tu vai fai prima seconda sgommi così a un certo punto lei tira dall'altra parte sì sì praticamente per fare il cambio di direzione che tu per fare il cambio di direzione lo sai benissimo segui la macchina lo fai contemporaneamente con la Mustang dovevo girare cioè io ero di traverso giravo prima mentre stava cambiando già giravo dall'altra parte è certo perché è talmente lunga che no 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 ma è proprio vabbè non è fatta per quello non è fatta per quello è proprio una originale perché poi se guardiamo Formula Drift così sono macchine stravolte sì 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 quindi abbiamo comprato la Mustang per vedere che guidavo anche la Mustang senza nessun tipo di problema e solite cose ce ne sono successe se dovremmo stare a raccontare qua tutto non ti basta una puntata io ho stretto le cose le cose più importanti per riuscire a validare la tua figura hai dovuto far di tutto ma no ma ce ne sono successe delle cose mi hanno buttato lo zucchero nei serbatoi no che cosa stai dicendo ma sì ma una marea l'invidia l'invidia ma non è una leggenda no no io racconto la parte bella ma la parte c'è anche la parte brutta ma brutta brutta un po' di pulizzato del bambino sputi sulla macchina ma direi tu sì sì filtri dell'olio svitati apposta tolto olio scusami lo zucchero quindi cosa hai fatto? zucchero o sabbia nel serbatoio non va più la macchina filtri intasati sì 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 ma durante anche dimostrazione gara gara evento quindi tu non ti esibisci certo e quindi sì 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 eventi che non mi hanno fatto come è andata direi che no no va bene ma sono anche quelle le cose belle si 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 ma non posso lamentarmi però aspetta arriviamo alla domanda più fondamentale che adesso mi esce ma quanto costa fare tutto questo ombaradà ti dico la spesa più grossa subito è la macchina la macchina perché noi fortunatamente abbiamo un'officina dove abbiamo fatto la tua macchina e facciamo le nostre cose e c'è San Adriano che ci mette le mani papà ci mette le mani dopo mio papà faceva il meccanico da ragazzino poi si è messo a fare l'idraulico dopo tanti anni si è rotto le palle e ha deciso di seguire solo me per il suo sogno era avere un capannone dove fare le sue cose quindi siamo riusciti ad aprirlo ad aprirlo ad aprirlo così noi ce le siamo fatti da soli perché dopo anche la macchina si è rotta perché ti appoggia a quello ti appoggia a quell'altro non sai dalla colpa a uno dalla colpa all'altro quindi siamo decisi di farci le nostre cose che abbiamo scoperto che quando le facciamo noi funziona bene quindi vuol dire che va bene siamo messi a farlo noi quindi la spesa più grossa è fare la macchina e adesso non è per dire la cifra così però una macchina da drifting se te la fai te arrangiandoti è un cento cavolo ma perché guarda è un attimo il motore il motore ti costa motore cambio se metti anche sequenziale ti costa un 50 quindi sei già a metà compra la macchina quindi ok la macchina ce l'hai già anche se è un telaio 10.000 quindi il motore sulle due l'hai preso da il motore l'ho preso da una corvette poi è stato fatto da Roby PMG che lui fa solo americane è molto molto pratico che tra l'altro è qua in zona si si Roby è di Nerviano 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 guarda il manager Nerviano Nerviano lui cazzo meno male che abbiamo conosciuto lui per quanto riguardante V8 e penso altri motori è veramente esperto molto molto in gambo anche in questo caso c'è da dire che in Italia magari siamo sfortunati perché in America hanno molti più possibilità da quel punto di vista costi minori perlomeno tu in America fanno anche tanti cavalli per la benzina buona ti spiego addirittura cambiano tanto le macchine vanno a etanolo figurati l'etanolo si usava anche in Formula 1 poi è stata tolta perché lei prende fuoco ma non lo vedi è 85 quella è invisibile soprattutto al sole magari al buio è blu blu leggero ma al sole non vedi se vai a vedere Formula 1 incidenti benzina etanolo vedevi i lotti che si sbracciavano e non capivi perché sono i video in Oscar dopo gli incidenti la gente che usciva è pazziva non capivi cioè non vedevi niente stavano a fuoco quella specie di benzina che poi è alcol così ti riduce tanto deriva dal mais se non sbaglio una roba del genere una roba che stiamo in un campo esatto rasiamo il mais facciamo un po' di etanolo non te lo so dire da dove arriva solo che so che diminuisce tanto il calore dentro il motore quindi il gas di scarico praticamente magari con la centottani con additivi fai a fine manche fai conto che noi ti diamo sempre su di giri motori al massimo quindi 8000 giri fisso finisci hai 800 gradi di scarico 800 gradi 850 900 non oltre perché dopo fondi dopo 1000 fonde tu fonde l'etanolo anche se tu tieni al massimo stai 200 300 gradi in meno e quindi stando 300 gradi in meno anche l'acqua cioè tutto l'olio in Italia è bandito no 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 lo puoi usare lo puoi usare sì sì lo puoi usare solo che in Italia non lo trovi devi prendere i fusti e ti costa una fucilata solo che vai in Francia costa meno cioè costa tipo 0,09 900 meno della benzina e tu l'ordini oppure la mia va a centottani centottani però potresti salire così anche a 102 perché poi puoi ridurre anticipi cose quindi tutto su seguire di cose che puoi fare quindi con quei 100k ci aggiungi poi tutti i trasferimenti che hai detto delle mete che comunque sono folli 100.000 la macchina macchina finita perché poi c'è roll bar se lo spacchi sì tra l'altro poi devi tenerti anche dei pezzi di ricambio non è che puoi arrivare sei dall'altra sei a 2000 km di distanza rompi la turbina e cosa fai devi comprare un'altra per forza tutti i doppioni sì io ti dico 100 così ma 200 250 ci arrivi ma guarda che fai i conti fai i conti un attimo poi se te la fai preparare quindi pagare anche la mano d'opera un attimo più tutti i trasferimenti poi più tutto il resto poi la maggior spesa sono le gomme ma dai eh sì perché due giri io faccio weekend faccio 20 treni cosa? come 20 treni? ma scusami sono gomme che però sono usate no 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 nuove ah sono nuove questo livello qua oggi come oggi non puoi permettere non puoi permetterti di andare con gomme usate ma ci sono dei limiti su gomme pezzi cambi no 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 non c'è niente non hai limitazione e che gomme usate scusate allora io uso si chiamano 3A ZST non Westlake sono fatte apposta no sono gomme che puoi usare anche andare a fare in strada in pista però ci sono diverse mescole soft medium hard quindi soft è più morbida medio è un compromesso e in base a circuito a clima e tutto no dipende dipende anche tu come vuoi guidare la macchina come hai fatto il setup della macchina di dietro oggi come oggi ci sono dietro cose che adesso non per fare conti in tasca a nessuno ma quindi un treno di queste gomme quanto costa? allora più o meno per far capire quanto allora fai conto che noi prendiamo riusciamo con diversi ragazzi prendiamo un container di gomme ah certo quindi tanti abatti costa dopo il covid è aumentato tutto premessa dopo il covid è aumentato tutto quindi 150 300 euro ogni sì 300 dipende poi 300 euro di gomme ogni due giri porca miseria poi quella macchina lì che poi il treno intendi solo le due posteriori no le anteriore 300 le posteriori le anteriore le cambi una o due volte all'anno non di più si consumano infatti pochi chilometri ragazzi investimento adri ci crede anche la vivi ma guarda io non sono ma scusami adesso l'obiettivo quindi l'obiettivo quest'anno è di andare al campionato europeo io voglio piazzarmi bene allora non voglio esagerare dire vincere spaccare però voglio piazzarmi bene l'anno scorso ci siamo spostati sempre per testare la macchina non ho fatto le ultime due gare ma ero quarto in campionato cioè bastava fare altre due gare potevo tranquillamente fare il terzo un bel piazzamento ti porti subito perché adesso c'è anche da dire che ci sono sei gare dell'europeo ma non tutti sempre i piloti fanno tutte le gare quindi magari se in Ungheria ci sono 20 piloti ungheresi e poi 10 o 15 20 sempre di quelli che fanno il campionato e perché invece vi mescolate in questa maniera qua perché è un campionato aperto a tutti non è come magari non devi essere riscritto a tutto il campionato no no non puoi fare una singola gara uno dice è per i costi no perché è per i costi se fai un campionato lo fai dall'inizio alla fine perché io dovrei decidere di fare solo la gara dipende dagli sponsor che anche che hai cioè se ti supporto in una certa maniera riesci magari tolto il fatto economico no perché dovrei decidere io di impegolarmi a fare una gara non tutti sono così 20 ma cosa ci guadagno se tanto faccio una gara magari tu aspetti solo quell'anno lì di preparare la macchina per fare quella gara lì o il campionato il tuo paese perché c'è il campionato ungherese c'è il campionato francese quindi il campionato ungherese magari si mescola con l'europeo quindi fate la gara esatto cioè fanno la gara il campionato europeo poi chi si vuole scrivere si può scrivere anche tu l'anno scorso hai fatto il CID l'italiano no l'anno scorso no mi sono tolto l'europeo ho fatto solo l'europeo la gara che c'era a Parma era l'europeo no 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 abbiamo fatto la prima lì e poi ci siamo spostati all'europeo ok scusi e quindi può essere anche a quello europeo per girare due giorni o tre giorni poi magari suppongo che anche essendo un circuito europeo ci sia una visibilità diversa quindi magari anche per farsi vedere gli sponsor fuori è tutta un'altra cosa quindi sai uno magari fa anche una singola gara però ha l'intenzione di farsi vedere ma perché in Italia sbagliamo tanto anche per la gente che prenda ancora il drifting come show come gioco invece non drifting è una cosa sgommare è un'altra cioè questo in Italia non è ancora questa è la frase del guru a fine puntata drifting è una cosa sgommare è un'altra e per quello che devi fare anche un lavoro mediatico anche sui social proprio per spiegare questo tipo di attività chi meglio di te può raccontarlo dopo anche questi precedenti cazzo vai in macchina e drift da quando ne hai 8 di anni è follia fuori è completamente più bello anzi sponsor che state guardando in questo video aiutatisi per quest'anno dai cavoli se avete un'azienda automotiva non sono mai riuscito ad avere uno sponsor se io dovessi trovare uno sponsor di gomme sai come prendi il campionato più in un'altra maniera è una spesa molto in meno anche perché magari ogni tanto tiri anche dici non faccio una prova in più io ti dico non mi faccio problemi noi quando andiamo fuori invece di prendere l'albergo dormiamo nel furgone dormiamo nel furgone per risparmiare capisci che a fine stagione magari ti escono due test gratis o pezzi per la macchina o robe di Adriano quanti BMW hai? allora questo è un altro fattore noi siamo fanatici BMW quindi non si direbbe guardando il capannone io no diverse 36 il mio problema è che mi piace avere la macchina da corsa quindi ho un S13 da corsa e un S13 originale l'M3 da corsa e l'M3 originale poi sono susseguite altre macchine ho una GTR una 33 Skyline che sto finendo ho una Lancia Delta che adesso l'hai vista bella tutte storie che nel percorso della mia vita sono entrate sono uscite però ti dico se dobbiamo star a raccontare tutto è tosta ma sai che ho letto su internet che tu mi dicevi che arriva questa famosa onda di drift il drift dal Giappone ma in realtà ho letto che Enzo Ferrari nel 1950 usciva di travesto alle curve no aspetta aveva come pilota Tazio Nubolari è stato il primo a inventare questa tecnica in Europa io ti dico quando correvo col kart anche io uscivo sempre di traverso ah ce l'avevi già lì ma il problema è che se tu esci di traverso perdi del tempo io in alcune piste soprattutto le piste quelle vicine al mare c'era sabbia salsedine così non riuscivi a guidare pulito no uscivi di traverso ma andavi sempre più forte a me mi hanno tagliato un telaio a metà perché c'erano trucchi che mettevi delle biglie dentro con i pesi oh madonna sì perché quattro secondi cioè quattro secondi dal secondo vuol dire che all'ultimo li dai un sacco è da sospetti molto sospetti un secondo ma quattro secondi dal secondo sono tanti vuol dire che l'ultimo prendeva un giro doppiato mi hanno tagliato il telaio a metà per vedere se c'erano le biglie poi me l'ha dato uno nuovo però smontato e poi c'era anche perché quando correvo col kart c'erano quelli che potevano facevano le fasce dei pistoli perché ecco i due tempi le facevi ogni gara io non le abbiamo mai fatte quindi si era consumata la camicia andava di più forte si consumava andava di più e poi arrivava a fine stagione però le facevo una stagione la gente le faceva ogni gara ma domanda in chiusura quindi visto che hai tirato in mezzo le moto di Adriano le moto adesso tu moto motori motori solo auto io fino non ho mai chiesto la moto poi è arrivato il patentino ho preso la moto motorino ho avuto moto motorino aspetta che questa è in chiusura di solito la faccio all'inizio però il tuo motorino qual era perché l'ho fatta tutti questa domanda il cinquantino guarda ti dico cioè lo zip io avevo il 50 top poi ho avuto il booster l'ho girato tutti il zip non l'ho mai avuto lo zip ho avuto il booster con il blocco del runner 180 col blocco a liquido si vede che era una famiglia di smanettoni il problema è che non è che magari tu chiedi a tuo papà mettiamo il 70 mio papà ma no perché il 70 mettiamo il bocco all'inizio però Adri è giovane tra l'altro i miei genitori sono molto giovani perché mia mamma o mi aveva in quel momento lì secondo me ha aiutato anche quello o mi aveva in quel momento lì o non poteva più avermi quindi mio papà ha 45 anni e mia mamma ha 47 e va a 48 quindi io mi godo lui mi gode a me io godo molto mio papà vi vedo perché siete come se fossero quasi fratelli mio papà andiamo insieme in moto andiamo insieme con la macchina cioè ci vedi lui impenna e dopo io impenno sì sì no no sempre su strade chiuse ovviamente strade chiuse al traffico come ti sto ovviamente ma ti è mai capitato ecco come ti comporti in strada cioè quando togli il casco da pilota hai un po' quella responsabilità allora ti dico noi abbiamo fatto per un periodo guida sicura e quindi ti dico in strada io metto sempre la cintura sempre la cintura nel 2024 non nego che una tirata qualche volta l'ho fatta sono sincero però riesci a controllarti ogni tanto no 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 quella curva lì mi piacerebbe farla è capitato che quando pioveva menti menti non puoi farla partire in strada grazie ai miei corsi è partita saluta la polizia stradale che ci segue sempre mi hanno sequestrato la macchina no veramente perché driftavi no 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 per un'altra cosa che io mi sono fatto la mia 36 stradale bella originale perfetta mi hanno fermato dicevano che avevo lo scarico la macchina era perfetta quindi me l'ho sequestrato ma la macchina era originale poi ho messo lo scarico i collettori dopo adesso si adesso si però però si allora ti senti un po' come se fossi un lottatore di MMA fuori dal ring devi avere rispetto sì 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 certo prossima gara Ricky la prima che viene nel campionato 21-22 aprile se non erro partiamo per l'Ungheria dove ci vediamo ah in Ungheria l'Ungheria Toccol dove dovreste venire voi si può seguire anche online tutto in streaming su Facebook YouTube Instagram Riccardo Tonali 7 seguitemi ragazzi che metto delle storie divertenti quando mi hanno comprato il mio primo kart avevo 7 anni e mi fa che numero vuoi e io gli faccio guarda voglio 7 voglio 7 perché ho detto magari quando ogni anno che vado quindi 8 anni 8 9 anni 10 finché poi arriverò magari a 30 anni smetto il mio numero è il 30 è rimasto 7 perché poi per tante cose vai in albergo la stanza 7 vai al tavolo 7 coincidenze guardi anche la storia di Franchini di The Rock ah sì sì era 7 bucks poi quando ho fatto l'incidente la stanza dell'ospedale è il 7 o una volta ho giocato ai numeri così era il 7 77 87 cioè diverse cose che hanno collegato c'è stato un periodo che era tanto cioè magari arrivo qua c'era scala scala 7 poi dopo alcune volte si vede di più alcune volte si vede di meno credo a queste cose questo in effetti è lo studio 7 ogni pilota ha un po' le sue robe di superstizione tu che numero hai? 19 perché? perché ho giocato basket avevo il 19 e quando ero piccolo mi piace il numero 19 perché tu sei un cinquino sai che numero c'hai? tu c'hai la 21 km di Milano tra poco che numero hai? ma non lo so in cosa c'ho il numero quando vai a tirare con la moto con la magia e con la moto non è il numero no perché di solito nel fuoristrada i numeri sono i numeri di come sei posizionato in classifica quindi il numero 1 è il numero 1 scusa ma un tuo numero non lo so ma non lo so scendile in una destra se non puoi mentire davanti a te un numero che vedi sempre ma no abbiamo messo in difficoltà staggisci sui numeri non sono scaramantico sui numeri ok vabbè va bene prima di chiudere per diventare pilota di drifting cos'è che suggerisci a un ragazzo che sta sentendo o in macchina o ci sta guardando video certo anche se sei minorenne bisogna fare dei corsi allenamento corsi e piano piano tutto viene da sé come ogni cosa se ti alleni ci metti dedizione ci metti la testa tranquillo che qualcosa ti rifiore non è ancora una cosa che non è irraggiungibile fare dei corsi o correre con la tua macchina se hai un po' di manualità o magari trovi una macchina già fatta prendi e vai il drifting è ancora una cosa come nel kart che puoi tu la tua famiglia o tu il tuo amico o tu la tua ragazza prendere macchina carrello così andare con le tue gomme scaricare girare e andare via è una cosa accessibile va bene ragazzi questo era il Noisy Podcast e lui è Riccardo Tonali grazie Ricchi per essere stato qui grazie 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 e alla prossima puntata applausi